L'architettura sovietica negli anni 30 Nel corso degli anni 30 la democrazia europea visse i suoi momenti più neri. Già nel decennio precedente regimi autoritari si erano affermati in molti stati dell'Europa mediterranea e orientale, ma nei paesi più progrediti sul piano dell'economia e delle strutture civili, questi regimi erano stati visti soprattutto come un prodotto della retratezza e dell'insufficiente radicamento dei principi liberal-democratici. Con la grande crisi del 1929, con i successi del nazismo in Germania e con la crescita generalizzata dei movimenti autoritari in Europa e nel mondo, si capì che il male era più profondo e non risparmiava nemmeno i paesi economicamente più sviluppati. In ampi strati dell'opinione pubblica si diffusa la convinzione che i sistemi democratici avessero ormai i giorni contati, che fossero troppo deboli per tutelare gli interessi nazionali e troppo inefficienti per garantire il benessere dei cittadini. Che la vera alternativa fosse quella fra il comunismo sovietico e i regimi autoritari di destra. Questi ultimi conobbero negli anni 30 il loro periodo di maggior fortuna, sia che si presentassero sotto la veste delle dittature reazionari di tipo tradizionale, sia che si ispirassero all'esempio più moderno del fascismo italiano e, più tardi, del nazismo tedesco. Caratteristica fondamentale dei movimenti e dei regime che convenzionalmente chiamiamo fascisti, anche se il fascismo non è mai una base dottrinale ben definita né un modello riconosciuto, era il tentativo di proporsi come artefici di una propria rivoluzione, di dar vita a un nuovo ordine politico e sociale diverso da quelli conosciuti fino allora. Sul piano dell'organizzazione politica, fascismo significava centramento del potere nelle mani di un capo, struttura gerarchica dello Stato, inquadramento più o meno forzato della cultura. Sul piano economico e sociale, il fascismo si vantava di aver indicato una terza via fra capitalismo e comunismo. Ma questo modello non riuscì mai a prendere corpo e l'unica vera novità in questo campo consistette nella soppressione delle libertà dialettica sindacale, oltre che in un complessivo rafforzamento dell'intervento statale in economia. In Germania, il 5 marzo del 1933, Hitler salì al potere con il 44% dei voti e il Reichstag, appena eletto, emanò una legge suicidia che permetteva al governo in pieni poteri, compreso quello di legiferare e di modificare la Costituzione. In luglio venne versata una legge in cui si proclamava che il Partito Nazionalsocialista era l'unico consentito in Germania. A novembre dello stesso anno, ormai il consenso aveva raggiunto il 92%. Nel 1934, dopo aver assunto anche la carica di capo di Stato a causa della morte di von Hindenburg, proclamò la nascita del Terzo Reich, o Reich millenario, secondo le sue ambizioni. Negli stessi anni l'Italia fascista intraprende la terribile campagna d'Etiopia, 1935-1936. In ottobre, appena iniziata l'invasione, la Società delle Nazioni dichiarò l'embargo all'Italia. Il Duce trasformò un momento di crisi in un momento di gloria italiana, volendo dimostrare al mondo che ce l'avrebbe fatta anche senza l'appoggio delle democrazie plutocratiche. Mussolini esalta l'autarchia italiana e nel frattempo le truppe italiane guidate da Badoglio entrano ad Addis Abeba. Era il 5 maggio del 1936. Quattro giorni dopo, Mussolini annunciò alla folle applaudenti la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma e offrì a Vittorio Emanuele III la corona di imperatore d'Etiopia, paese povero di risorse naturali e poco adotto agli insediamenti agricoli. Rappresentò per l'Italia un peso non indifferente, aggravato dai problemi suscitati dalle sanzioni. Nonostante tutto il Duce aveva dato a molti la sensazione illusoria di aver conquistato per l'Italia una posizione di grande potenza. Questa grande potenza, sia per la Germania che per l'Italia fascista, si rispecchia anche in quella che è l'arte monumentale. Un'arte dai toni trionfanti in qualunque momento. Un'arte che deve richiamare la classicità, ma anche la contemporaneità e il grande trionfo dei due totalitarismi. In Unione Sovietica si concludeva la lotta di successione alieni tra Trotsky e Stalin, con la vittoria di quest'ultimo e l'esilio del primo. Mentre gli stati capitalistici si dibattevano nell'espire della grande crisi, l'Unione Sovietica, in virtù del suo stesso isolamento economico, non era affatto toccata. Anzi, si rendeva protagonista di un gigantesco sforzo di industrializzazione. Questa decisione di forzare i tempi dello sviluppo industriale e di porre fino all'esperienza della NEP, ossia della nuova politica economica, fu presa da Stalin tra il 27 e il 28, subito dopo la definitiva sconfitta di quell'opposizione di sinistra che proprio sulla necessità dell'industrializzazione aveva impostato la sua battaglia. Il primo e più importante ostacolo alla costruzione di un'economia totalmente collettivizzata e altamente industrializzata fu individuata nel ceto dei contadini benestanti, i kulaki, accusati di arricchirsi alle spalle del popolo e di affamare le città non consegnando allo Stato la quota di prodotto dovuta. Nell'estate del 29 Stalin proclamò la necessità di procedere immediatamente alla collettivizzazione del settore agricolo e addirittura di eliminare i kulaki come classe. Il gruppo dirigente comunista procedette sulla via della collettivizzazione forzata, senza arretrare dinnanzi alla prospettiva di un'inevitabile e sanguinosa repressione. Milioni di contadini furono deportati con le loro famiglie in Siberia o nella Russia settentrionale, chiusi in campi di lavoro forzati, abbandonati in terre, in ospitali. Ma c'è uno scopo ovviamente. Il vero scopo della collettivizzazione era però soprattutto quella di favorire l'industrializzazione del paese mediante lo spostamento di risorse economiche e di energie umane. Da questo punto di vista i risultati furono indubbiamente notevoli, anche se inferiori a quelli programmati. Il primo piano quinquennale per l'industria, l'industria varato nel 1928, fissava infatti una serie di obiettivi tecnicamente impossibili da conseguire, frutto più di una decisione politica che di un calcolo economico. La crescita del settore fu comunque imponente e si svolse con ritmi che nessun paese capitalistico aveva mai conosciuto fino ad allora. Nel 1932 la produzione industriale era aumentata rispetto al 1928 di circa il 50% e il numero degli addetti all'industria era passato da 3 milioni scarsi a oltre 5 milioni. Con il secondo piano quinquennale, 1933-1937, la produzione aumentò di un altro 20% e il numero di operai giunse a toccare i 10 milioni. In questi anni si innesta il dibattito politico tra centralizzazione urbana e disurbanizzazione o zonizzazione e gerarchizzazione delle parti di città. Gli studi di urbanistica si intensificano e architetti urbanisti di tutto il mondo giungono in Unione Sovietica, come ad esempio Ginzburg e Lecrobusie. E si aprono anche grandi concorsi, come quello per la progettazione del Magnitogorsk, la città collettiva di 80.000 abitanti. Nel 1931 l'ascesa ai vertici del partito di Lazar Kaganovich porta il riassetto di Mosca al centro del dibattito artistico. Il piano di ricostruzione della città di Mosca, redatto tra il 1931 e il 1935 da un gruppo di illustri progettisti sotto la guida di Semenov, pretendeva e prevedeva una sorta di definitiva concentrizzazione dell'utopia socialista in forma di spazio urbano. Le principali direttive del piano sono la conferma della struttura storica anulare concentrica di Mosca e il suo rafforzamento attraverso demolizioni e smembramenti e la costruzione di nuovi ampi assi vari, la zonizzazione delle aree produttive e residenziali, le ultime in particolare nelle zone considerate più salubri della città e con una precisa gerarchizzazione delle aree abitative conferite ai diversi strati sociali, la realizzazione di un anello di collegamento tra i principali parchi urbani, la pianificazione dell'espansione sud-occidentale con la collocazione del complesso universitario come elemento generativo sulle aree delle colline di Lienin e soprattutto la predisposizione di un sistema di interventi puntuali e emblematici nel centro storico, sugli incroci tra le principali direttrici, da realizzarsi all'interno di scadenze temporali coincidenti con i piani quinquennali e con precisi volumi e modalità, con l'obiettivo di conformare una continuità spaziale architettonica lungo l'intera trama metropolitana. È il 1920 quando viene promulgato un manifesto dal titolo Dichiariamo guerra all'arte che afferma Entra in scena il costruttivismo, degno figlio della cultura industriale. Per lungo tempo il capitalismo lo ha perseguitato e costretto alla clandestinità. La rivoluzione proletaria lo libera. Dal 25 ottobre 1917 è cominciata un'epoca nuova. Gli artisti devono seguire questa direttiva, staccarsi dall'ambito speculativo, arte, per trovare le vie che conducano al lavoro reale, applicando le proprie conoscenze e capacità ad un impegno autentico, vivo e aderente alle funzioni. È indispensabile imparare a costruire in questo modo, che la dinamica del prodotto non sia illusoria stratta, volta soltanto a suscitare un'impressione visiva, ma incarna il movimento concreto. Niente di fortuito, di non calcolato, niente che derivi dal mero gusto e dall'arbitro estetico. Ogni decisione deve essere motivata dal punto di vista tecnico e funzionale. Il manifesto sancisce la nascita del costruttivismo sovietico. Il termine fu usato per la prima volta dal critico Nicolai Pünin a proposito dei rilievi di Tatlin del 1913. Secondo Gann, il movimento in quanto tale, è sorto nel 1920 nell'ambiente dei pittori di sinistra e degli ideologi dell'azione di massa. Nel suo ambito si collocano il manifesto realista di Naum Gabo e Anton Pavsner e le tesi produttiviste espresse dai Vesnin, da Lyubov Popova, da Aleksandra Ekster, Aleksandr Rotchenko e Barbara Fedorovna Stepanova, nel catalogo della mostra 5x5 uguale 25. I presupposti figurativi del costruttivismo erano in gran parte analoghi a quelli dei movimenti contemporanei, come il cubismo, il dadaismo e in particolare il futurismo. Come quest'ultimo, il costruttivismo afferma di rifiutare l'arte borghese e individuava il progetto di un nuovo linguaggio nelle proposte della tecnologia e della meccanica industriale. A caratterizzare e distinguere il costruttivismo fu, tuttavia, la particolare situazione politico-sociale in cui esso di fatti si inserì. Nelle prospettive aperte dalla Rivoluzione d'Ottobre, gli artisti del movimento videro la possibilità concreta di rompere l'isolamento dell'arte dalle masse, di costruire un'arte nuova per la nuova società. Nel 1926, l'OSA, ossia la Società degli Architetti Contemporanei, pubblica una rivista, l'ACI, Architettura Contemporanea, redatta dai fratelli Vesnin e da Moise Gimsburg. È organizzata nel 28 Mosca una conferenza aperta da Gimsburg con un rapporto che indica un programma preciso di lavoro. Il primo punto dice I nostri lavori devono partire da uno studio approfondito e scrupoloso del programma, visto che alla luce delle nostre condizioni politiche e sociali devono avere come scopo finale la definizione dei condensatori sociali della nostra epoca. Bisogna spingere più lontano e approfondire gli studi per la creazione di un tipo nuovo di residenza, affrontare lo studio degli altri tipi di edifici oggi necessari, tra cui i principali servizi pubblici, e affrontare ugualmente la pianificazione delle nuove città, finora soltanto sfiorata. Bisogna attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi problemi, legando strettamente il nostro lavoro a quello dei compagni che definiscono le nuove relazioni fra gli uomini e i modi di produzione. È il momento in cui i capi politici preparano il passaggio dalla neppa alla politica di piano e iniziano il primo piano quinquennale, dal 1928 al 1933. Gli architetti moderni tentano con le loro forze di inserirsi in questo passaggio e propongono i nuovi tipi di lizi e urbanistici come condensatori della vita sociale che si sta formando. Secondo il programma di Ginsberg, i nuovi condensatori sociali sono La Casa Collettiva La rivista AC pubblica nel 1926 un'inchiesta sulle nuove tendenze sociali per la casa d'abitazione e nel 1927 un concorso per nuove proposte architettoniche sono presentati otto progetti che esplorano un'ampia gamma di soluzioni non usuali alloggi con ambienti di varie altezze e su vari livelli disimpegnati da ballatoi e strade interne. Nel 1928 lo STROICOM, comitato per le costruzioni stratali, istituisce una sezione di studi e ricerche diretta da Ginsberg che sviluppa sistematicamente queste nuove proposte e mette a punto nel 1929 un tipo di alloggio minimo di 27-30 metri quadri la cellula F da montare in grandi blocchi edilizi con servizi collettivi la DOM comuna. Due di questi sono realizzati fra il 28 e il 30 una da Ginsberg e Milnis per il commissariato del popolo delle finanze il famoso Narconfim l'altro da Lissagor al numero 8 di Viale Gogol a Mosca. Molto più numerosi sono i progetti non realizzati di Ginsberg, dei fratelli Vesnin, di Golosov e di Kuzmin che fissano in diversi modi l'integrazione fra alloggi e i servizi comuni anche proponendo una collettivizzazione quasi completa della vita familiare. Questa ricerca arriva più avanti di tutto il resto della ricerca mondiale sul tema della residenza e non può utilizzare il confronto di altre esperienze. Solo dopo il 1945 le Corbusier, Bacchema, Candiglis e gli Smithson cominceranno ad affrontare gli stessi problemi. Un altro condensatore sociale è il club operaio che comprenda i servizi di grado superiore non inclusi nell'unità residenziale. Mentre le strutture residenziali sono basate sulla ripetizione di elementi uguali il club equilibra il tessuto urbano come elemento eccezionale e irripetibile. È l'impostazione data da Cropius. I tipi studiati e realizzati da Melnikov infatti con i loro incastri volumetrici sensazionali spiccano come caposaldi del paesaggio urbano e realizzano visivamente questa relazione. Si tratta ora di sviluppare le conseguenze organizzative cioè di trasformare il club da un edificio a una zona urbana. È il tema di molti progetti teorici fatti intorno al 1930 come quello del club di un nuovo tipo sociale di Ivan Leonidov del 1929. Ma nessuno di questi progetti può essere realizzato fra le due guerre. Qualcosa di simile è il Palazzo dei Pionieri a Mosca del 1966. L'ultimo grande condensatore sociale è ovviamente l'officina. Le attrezzature produttive sono l'altro polo della vita urbana Contrapposto al sistema della residenza e dei servizi e sono anche gli edifici per cui sono disponibili più mezzi ma l'organizzazione collettiva necessaria per progettare gli impianti industriali non si presta a essere controllata dagli architetti moderni finché questi sono ancora un gruppo di minoranza. Sebbene il più efficiente e il più preparato nel 1925 per progettare una grande officina a Leningrado è chiamato Mendelschon dalla Germania. Durante il primo piano quinquennale la realizzazione più importante è la centrale elettrica sul Dnieper costruita tra il 1927 e il 1932. La direzione tecnica è affidata all'ingegnere Winter mentre per la scelta degli architetti è indetto un concorso a cui partecipano anche gli architetti accademici Joltovski, Sciucco e Alfreig. In questo caso vince un gruppo di architetti moderni diretto da Viktor Vesnin. Essi realizzano insieme agli ingegneri una struttura semplice e convincente appena sottolineata da motivi formali costruttivisti. Parliamo ora, l'abbiamo citato, parliamo ora del narcom film. Negli anni compresi tra il 1925 e il 1932 gli architetti sovietici d'avanguardia Leonid Vesnin, Moisin Giesburg e Ila Golosov sono impegnati nella definizione programmatica delle forme tipologiche residenziali per l'affermazione del progresso sociale. L'obiettivo, che era già stato tratteggiato sommariamente fin dagli anni immediatamente successivi alla rivoluzione 1921-25, in alcuni progetti pioneristici di edilizia sociale è essenzialmente quello di costruire un sistema di vita autenticamente socialista all'interno del quale l'architettura come elemento rappresentativo di un nuovo ordine politico-culturale viene ad assumere finalità e ruoli pedagogici. La costruzione di un modello abitativo e urbano conseguenza diretta delle trasformazioni della base economica, delle società e dei rapporti di produzioni tipici del socialismo si traduce nell'elaborazione di nuove tipologie residenziali e nell'adozione di procedimenti costruttivi sperimentali associati a tecniche innovative di standardizzazione. Tra il 1928 e il 1930 viene realizzato il NARCONFIM, un prototipo di casa collettiva per 50 famiglie destinata ai dipendenti del commissariato popolare delle finanze della RSFSR. Nelle previsioni iniziali di Ginzburg l'unità abitativa doveva comporsi di quattro corpi di fabbrica. L'edificio residenziale, il complesso sociale, un'unità funzionale autonoma a uso comunitario attrezzata a palestre, refettore, collegata alla parte residenziale da un passaggio coperto, un asilo infantile e una costruzione ausiliare destinata ai servizi comuni come la lavanderia, l'officina e gli impianti tecnici. L'edificio residenziale a cinque piani sollevato su pilutois è costruito da cellule d'abitazione modulari tipologicamente differenziato. Il tipo K2F al primo e secondo piano e il tipo F al terzo, quarto e quinto piano. è dotato di Rue Corridor al primo e al quarto piano. Il tetto piano, parzialmente occupato da una foresteria, è attrezzato a terrazza scoperta e a solarium. Nell'elaborazione progettuale del NARCONFIM, il dato tecnologico assume una funzione preponderante. L'adozione di tecniche costruttive d'avanguardia e dei criteri organizzativi più aggiornati in ordine alla dotazione dei servizi, i rifiuti domestici sono smaltiti direttamente attraverso un sistema automatizzato, uniti alla standardizzazione spinta dei singoli componenti, pilastri, travi, porte, finestre, elementi divisori interni, rendono l'edificio un modello di riferimento per la nascente industria edilizia sovietica. La realizzazione del NARCONFIM, episodio lirico in un contesto epico, ottene un riscontro eccezionale nella stampa specializzata internazionale. La critica lo promuove unanimamente, la strazione più audace del movimento costruttivista e uno degli esempi più interessanti dell'edilizia popolare degli anni venti. Abbiamo detto che l'esempio del NARCONFIM non va perduto nella storia, anzi, viene mantenuto e viene ripreso da Le Corbusier. Le Corbusier entra direttamente a contatto con Ginzburg negli anni 30, proprio quando l'architetto sovietico mette per iscritto la teoria dei condensatori sociali. Sconcertato dalla precisione geometrica del NARCONFIM, appena completato, annota nei suoi commentari del 1930. Ho avuto l'occasione di visitare a Mosco una casa comune, solidamente costruita, ma nella quale l'impianto distributivo interno e la concezione architettonica generale sono così freddi e impassibili, che si sente pervasi da un senso immane di tristezza, non soltanto al pensiero di abitarvi noi stessi, ma a quello di considerare che diverse centinaia di individui siano stati semplicemente privati delle gioie dell'architettura. Nonostante tutto, venne fortemente influenzato da Ginzburg, realizza a Marsiglia, tra il 1945 e il 1952, un grande edificio residenziale ad alta densità, l'Unité d'Abitation, successivamente replicato dallo stesso architetto con poche varianti, varianti a Brienne Forêt, Firmini e Berlino. L'edificio, caratterizzato da elementi ormai ricorrenti nel vocabolario architettonico di Le Corbusier, sono il pilutoire e il tetto piano, è concepito per ospitare circa 1800 abitanti e racchiude, oltre alle residenze, alcuni servizi a esse connessi. All'interno si trovano sale di riunione, un albergo, un ristorante e negozi affacciati su un corridoio di distribuzione che assume le dimensioni di una vera e propria strada interna. Sul tetto sono collecati un asilo nido, un teatro all'aperto e una piscina. La fortuna di Le Corbusier è maggiore persino di quella del collega sovietico. Ma, soprattutto, la sua opera non cadrà in declino come accadde per il Narconfilm a causa di una nuova scelta artistica da parte del regime stalinista, quella del classicismo sovietico. Tra i condensatori sociali c'è anche la stessa città. Infatti, i condensatori sociali devono essere inquadrati nel condensatore generale che è la città. Questo è il terreno decisivo dove gli architetti dell'Osa presentano le loro proposte e dove, in ultima analisi, le autorità politiche scelgono l'indirizzo dell'architettura russa. Le case comune, ideati nel centro studi dello Stroikon, sono strutture nuove che trasformano virtualmente l'organismo urbano e valgono come nuovi elementi ripetibili ma complessi, dove un dato numero di abitanti è associato a un dato corredo di servizi. Alcuni dei progetti, la casa dei fratelli Veznin per Kuznetsk, del 1930, la casa teorica studiata da Barth e Vladimirov per lo Stroikon, del 29, sono complessi urbanistici di grandezza prefissata a 1680 abitanti nel tipo del 29 e esigono un processo di montaggio nella scala superiore che produrrebbe una città del tutto nuova, come più tardi l'unité de grandeur conforme di Le Crobusier. Per questa via, gli architetti dell'Osa riesaminano l'organismo della città tradizionale e riconoscono la logica dell'accentramento su cui è fondata, che impedisce di mettere gli elementi costitutivi, unità di abitazione, centri di servizi, attrezzature produttive, nelle stesse condizioni reciproche per superare questa logica. Si presentano, quindi, alcune possibilità. La prima, in grandire e complicare l'unità di abitazione fino a farla coincidere con la città, è la soluzione degli urbanisti teorizzata da Sabsovich che riprendono la proposta di Kuzmin della casa integralmente collettivizzata con alloggi individuali di 5 metri quadri e fissano la dimensione massima dell'aggregato fra 40 e 50 mila abitanti, diffondere le unità del territorio e la soluzione dei disurbanisti come Ginzburg, Vladimorov, Bartz e il teorico Eutovic, che immaginano la città come un aggregato infinito di elementi distanziati, case, centri di servizio, officine, eccetera, sempre a diretto contatto con la campagna. I due gruppi presentano le loro proposte per i temi concreti della pianificazione sovietica, la riorganizzazione delle città esistenti e la progettazione di quelle nuove, richieste dalla localizzazione dei grandi impianti industriali. Ginzburg e Bartz pubblicano nel 1930 su AC un piano per il decentramento di Mosca, la città verde. Le Corbusier, che visita la mostra del progetto, discute con Ginzburg sull'opportunità dell'accentramento del decentramento. Vladimirov, Sokolov, Bartz e Eutovic, ma anche Leonidov a nome dell'Osa e l'equipe di Ernest May, presentano nel 30 diversi progetti per la nuova città di Magnitogorsk. La ricerca architettonica tocca però nuovamente il problema dell'indirizzo politico, che può essere risolto solo dai dirigenti. Appunto, nel 1930 le autorità chiariscono su questa controversia il punto di vista ufficiale. È impossibile superare da un balzo ostacoli vecchi di secoli, frutto della retratezza culturale ed economica della società. Invece è questo il sistema implicito in questi irrealizzabili e utopistici piani per la ricostruzione, la spesa dello Stato di città nuove basate sulla totale collettivizzazione dell'esistenza, compreso l'approvvigionamento collettivo, l'educazione collettiva dei fanciulli, la proibizione di cucine nelle abitazioni, la precipitosa realizzazione di simili schemi utopistici dottrinari che non hanno alcun conto delle risorse materiali del nostro paese e del limite in cui la popolazione con le sue preesistenti abitudini e preferenze può essere preparata ad essi potrebbe facilmente produrre perdite sostanziali ed anche screditare i principi fondamentali della ricostruzione socialista della società. Gli architetti debbono evitare il pericolo di essere dominati dalla fantasia perché un'adeguata soluzione del problema può provenire da un architetto che comprenda la vita e le condizioni delle masse. Nel periodo di trasformazione della famiglia da una base di economia domestica individuale ad una base collettiva ogni soluzione meccanica amministrativa è controproducente. Il processo deve avere un corso graduale essere protetto e incoraggiato concretizzando un'adeguata organizzazione per mettere in luce i vantaggi e l'aumento del benessere del lavoratore nel programma di collettivizzazione. All'interno della ricostruzione soprattutto del secondo periodo artistico del periodo stalinista ossia del grande classicismo staliniano rientra la metropolitana di Mosca che è il meraviglioso manifesto per così dire del classicismo sovietico. È il giugno del 1931 quando una sessione plenaria del comitato centrale del partito comunista si discutono le questioni che riguardano la ricostruzione della capitale durante l'assemblea si dichiara che la costruzione deve assolutamente iniziare l'anno seguente per risolvere velocemente il problema della velocità del traffico umano. Il 7 novembre il giorno quattordicesimo il giorno del quattordicesimo anniversario della rivoluzione d'ottobre in via Rusakoskaya viene aperto il primo cantiere il 25 maggio del 1932 il consiglio dei commissari del popolo dell'unione sovietica dichiara che il cantiere deve essere considerato come il sito più importante di costruzione e tutti i materiali di costruzione dovevano finire principalmente lì. Il 15 ottobre del 1934 alle 8.20 dal deposito di piazza Komskoskaya parte il primo treno della banchina di Mosca il quale compie due chilometri e mezzo del suo tragitto sottoterra. Gli spazi della metropolitana assieme alle prime stazioni vengono realizzati in uno stile monumentale il cosiddetto classicismo sovietico. Nei mosaici della stazione Majakoskaya opera di Aleksandre Deineka possiamo ammirare il cielo di Mosca che simboleggia il futuro luminoso dello stato sovietico. Secondo il pensiero dello scrittore Vladimir Majakoski qui è dedicata la stazione. Essa presenta un design all'avanguardia con uno spazio a singola volta sostenuto da una serie di colonnati su ogni lato novità di rilievo dal punto di vista architettonico ed è abbellita oltre che da mosaici anche da decorazioni in stile art decou. Un'altra fermata del periodo stalinista è la Komskolkaia probabilmente la più opulenta. Il soffitto barocco è arricchito di mosaici e motivi floreali. L'ingresso ha un imponente portico con colonne corinze stilizzate e il tema dei decori è la battaglia che la Russia si ha combattuto per la sua indipendenza. Vedete anche le somiglianze tra l'ingresso della stazione tra gli ingressi delle stazioni e addirittura quello che era stato il barocco e il rococco russo sia ad esempio la sala di San Giorgio all'ermitage di San Pietroburgo. Ovviamente non è un collegamento con la potenza zarista in una rivoluzione proletaria rifarsi apertamente allo zarismo contro cui si è combattuto insomma sarebbe abbastanza controproducente. È un ricame invece di quella monumentalità che caratterizzava che ha sempre caratterizzato il potere di quell'arte di quell'architettura monumentale anche di grandezza che simboleggiava per l'appunto una grandezza internazionale dell'Unione Sovietica.